E' una bellissima giornata di sole, tantissimi volontari della casacca arancione vi aspettano in tutti i supermercati in Italia, 1.100 supermercati solo in Sicilia, un esercito colorato fatto di bambini, di giovani e meno giovani che chiederà agli avventori dei supermercati un po' della loro spesa, merce non deperibile per aiutare in questo momento chi non ne ha. Oggi in questo momento Banca Alimentare in Sicilia aiuta 280.000 siciliani in condizioni di povertà, la situazione della povertà in Sicilia e come in tutta Italia sta peggiorando, per cui vi chiediamo di poterci aiutare con un po' della vostra spesa. Vedrete questo esercito e questa moltitudine è bellissima, io dico sempre che la solidarietà è una strada indicata per costruire bene comune e per creare coesione sociale, per cui vi aspettiamo.